ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi un nuovo video video di nail art sulle mie unghie naturali e andremo a fare praticamente una nail art con dei gattini insomma solo col muso del gatto che andremo a fare tra l'anulare e su altre lunghe sono tutte a può comunque adesso lo vedrete meglio nel tutorial e quindi vi lascio la visione e Grazie a tutti. 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 Come si dice grandi, invece qua no, perché tanto con la sinistra sapete come non ce la faccio più di tanto. Grazie a tutti. Non mi piace più di tanto. Comunque ok, questa è quella dell'arte è finita e comunque spero che vi piacerà lo stesso. Se volete sotto i video mi commentate. E niente, io vi lascio, vi mando un bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Grazie a tutti.